Ciao a tutti, questa donna si merita il mio amore? Chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda, segua il video. Mescoliamo le carte. Nel frattempo iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, mescoliamo, tagliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali. Carta 1, carta 2, carta 3 e carta 4. Allora, pensa a questa donna, della quale vuoi sapere se merita il tuo amore, poi prenditi il tempo necessario, anche stoppare il video, poi farlo ripartire. Dopodiché scegli, ho la carta 1, ho la carta 2, ho la carta 3, ho la carta 4. Perché ho scelto la carta 1? È una persona molto ambigua nei tuoi confronti, quindi l'amore non lo merita molto, diciamolo così. Non ne merita molto. Chi ha scelto la carta 2? No, ci sarà rottura. Chi ha scelto la carta 3? Sarà una relazione un po' fastidiosa, quindi con qualche sofferenza, bisogna fare attenzione. Chi ha scelto la carta 4? Sì, è una persona con la quale si costruirà un futuro assieme, e quindi merita sicuramente il tuo amore. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti.